Buono cronaca. Per Eric Bondo la scuderia Wave, allineamento abbastanza compatto, leggermente discorso Pepe Gianfi. Quando la macchina va per staccare c'è lotta all'esterno della prima fila per il comando con Plinio che cerca di attaccare il numero 7 di Pietro il Grande che però emerge chiaramente dall'esterno Pietro il Grande e si insedia al comando. Alla corda si pone invece Puerto Rico che comunque a sua volta è partito abbastanza sollecito, poi ancora Nonno Borgi, quindi all'esterno invece è rimasto proprio Plinio. 28 e 9 il passaggio ai 400 metri con le posizioni che si vanno assestando, ora Plinio va a lungo sul numero 7 Pietro il Grande e passa in consimità del paletto dei 600 metri in 43 e 4. Quindi Plinio al comando, Pietro il Grande e poi ancora Puerto Rico, per linea esterna invece c'è Pepe Gianfi pedinato da Pavone Jet. 800 di gara in 59 e mezzo per il leader quando siamo adesso di fronte con Plinio che comanda. C'è stato l'errore per Pavone Jet che è finito a tabellone, Plinio che si porta al chilometro in 1'14 e 6. Dietro si prova a farsi vedere Pepe Gianfi con Puerto Rico che ha spostato dalla corda e va in schiena al cavallo guidato da Gian Paolo Minucci. Tre quarti di miglio in 1'28 e 9 da parte di Plinio con Pepe Gianfi che arriva a mezza lunghezza dal leader. Un pochino più indietro invece Pietro il Grande che ha all'esterno Puerto Rico, poi gli altri. Addirittura d'arrivo con Pepe Gianfi che attacca Plinio il quale prova a difendersi lungo la corda. Gli altri che sembrano tagliati fuori dal discorso di vittoria con sempre Pepe Gianfi che attacca a fondo Plinio. I due molto vicini nel finale Pepe Gianfi che sopravanza Plinio mentre per il terzo forse Nonno Borgi all'interno ma dobbiamo rivedere perché sono molto vicini. 1'58 il tempo totale che significa che siamo nell'ordine dell'1'14 e poco più con sempre la vittoria di Pepe Gianfi e Gian Paolo Minucci che riescono ad avere la meglio nei confronti di Plinio che aveva tentato il percorso di testa dopo i primi 600 metri ma addirittura d'arrivo Pepe Gianfi è incisivo e vedete mette una mezza lunghezza tra sé e l'avversario proprio sul palo di arrivo. Per il terzo posto sembra emergere in una situazione molto complessa forse all'interno del numero 5 di Nonno Borgi ma dovremo attendere comunque il risponso del giudice di arrivo.